Eleonora Volpe non ce l'ha fatta. A distanza di qualche giorno dal terribile incidente dell'auto sulla quale era a bordo insieme ad alcuni amici, è morta per le gravi ferite riportate. Aveva 43 anni, ha combattuto con tutte le sue forze. Eleonora era a bordo della Mercedes di un conosciutissimo medico dell'ASL, Bruno Scannapieco, le cui condizioni restano gravi, e della moglie la figlia di quest'ultimo. Era seduta sulla parte posteriore dell'automobile quando all'improvviso ha trovato la morte perché la vettura è finita giù in un dilupo sulle colline di Salerno in località Giovi-Montena. Eleonora Volpe era appunto seduta vicino ad Adriana, la figlia dei due medici, che invece si sta pian piano riprendendo. Anche la moglie del medico Maria Russo è dottoressa dell'ASL. L'auto aveva effettuato un volo di vari metri sbalzando fuori alcuni degli occupanti, tutti ricoverati in codice rosso inizialmente all'ospedale San Leonardo. Ieri sera la donna è morta, intanto i carabinieri proseguono le indagini per capire cosa sia avvenuto. Ancora incidenti intanto sulle strade provinciali savernitane. La notte scorsa infatti un sinistro stradale sulla Litorane, in località Campolongo. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata dopo un tamponamento. L'auto coinvolta nell'incidente di una donna senza fissa dimora che vive da tempo in macchina. All'interno della Fiat banda verde i soccorritori giuti sul posto hanno rinvenuto oggetti e vestiti. L'uomo ha riportato una frattura al braccio.